Per Settimana Sport siamo con Massimo Parodi, Presidente del Mele. Allora Massimo, la prima di campionato, una bella vittoria direi. Sì, è una bella vittoria. Oggi siamo stati proprio... abbiamo giocato solo con noi, potevamo vincere 7-8 a 1 perché siamo mangiati anche dei gol. È tutto, un bel inizio. Da centrocampo in avanti devastanti, abbastanza, perché ogni volta eravamo in porta. E' un buon inizio. Contro una bella squadra, però la prima giornata ho caldo, non puoi vedere come la situazione c'è ora. Ma però, come inizio abbiamo giocato bene. Allora Massimo dicono che ben inizia, poi bene, dimmelo tu. Però che bene inizia non è nemmeno la metà dell'opera perché manca ancora un'altra partita. Però abbiamo cominciato bene. Sì, ho visto un bel mele. Ho cominciato bene, sono contento, non ho risultato perché la prima può succedere di tutto. Hai il gioco, giocare, giocare bene, la grinta fino all'ultimo, anche su 4-1, correre. Bene, i ragazzi sono entrati, i ragazzi giovani che abbiamo preso in giro e hanno fatto loro il loro dovere. Sono contento, sono contento. Bene, grazie Massimo, ciao. Ok, ciao a tutti.